si dà commento bene amici ma soprattutto amiche della bandana naspineapple crew anche oggi siamo accompagnati dal nostro bruce junior dal nostro bruce junior grazie non so se avete visto no beh voi non l'avete visto sulla piattaforma viola ma sulla piattaforma rossa è già uscito il primo video di fortnite o comunque il primo video del canale con la nuova intro l'intro personalizzata la prima intro personalizzata da parte del nostro buon Kevin Pizzi is him ovvero Kevin Pizzi ovvero la sigla della bandana naspineapple crew stiamo già preparando altre versioni per altri giochi in particolare quelli di cui vorrò portare i walkthrough direttamente sulla piattaforma rossa perché se lo facessi se lo facessi si quattro anni prima ok tutto stanotte mi sono visto cosa lo chiamavano queste cose non le avevo guardate per niente no stanotte mi sono visto alcuni dietro le quinte di The Last of Us parte 2 ah si lo stavo guardando un paio lo avessi pure qualche settimana fa ho scoperto che l'attrice che interpreta Abby è la stessa che interpreta Nadine in Uncharted 4 e l'eredità perduta ma Nadine non è quella del colore si e la interpreta un'attrice bianca infatti ancora perché non c'era mi sa tutto sto casino quando è uscito dell'Uncharted 4 perché sennò il whitewashing l'avrebbero incaprettati nonostante io si dà l'opinione che se sceglie un attore per le sue capacità non per il suo colore della pelle e credo che sia stato anche il caso di Naughty Dog purtroppo oggi abbiamo iniziato tardi per colpa di Bruce Junior e quindi no non di qua infatti quindi avremo delle incursioni ogni tanto perché per colpa mia perché per colpa mia non lo so perché perché stavi giocando a fifo probabilmente io era io e ci sono i presupposti per la querela ah ok era qua che avevo passato vorrei dire una cosa ma non lo dirò ok gazebo questo mi pare che l'avevo preso questi qua credo di aver preso tutti gli artefatti sono quattro in totale cioè tutti i collezionabili sono quattro in totale due sono quelli che avevamo nello zaino che scioccamente non ho pensato di guardare durante la blind rain queste sono la blind rain che rain perché mi sono sbagliato e l'altra era una moneta che abbiamo sicuramente preso io non sono sicuro mamma da che scogliattolo mamma da si ce l'avevo con lo scogliattolo hai detto mamma da lo scogliattolo quella scogliattola di tua madre no allora che lo dico mamma no non a te hai detto che sei lo scogliattolo a mia madre l'hai detto ecco la prima moneta e questa anche l'avevamo presa west virginia country lo take me o ti piace cosa la kingsman marco for kingsman ti piace kingsman dove cazzo si passa grande marco allora io me ne è stato un'altra soffita bravo marco brutto idiota che non sei altro ma ma è mutato kingsman è il film no non t'ho mutato ti piace? il primo assolutamente si statesman il sequel assolutamente no ma non è statesman il si no è kingsman 2 però era statesman la compagnia insomma perché è un dettaglio da? perché è come al solito quando gli americani mette mano alla roba dell'altri e rovinano le fanno diventate piccamente americane forse non avrei dovuto fare questa cosa che ho fatto un po' come la bizzarco non mi ricordo una fa ho veramente dei ricordi molto vaghi di queste robe delle parte di Abby alcune me le ricordo bene perché sono stato 20 minuti mamma Edoardo che casino questo ventilatore mi toccherà morire per colpa tua mi aspetto le donazioni ma da chi? da tutto il mondo per la tua morte per esserne è stata la cagione ma che il mondo mi impiangerà deve non essere stati loro a correre fine alle nostre sofferenze mi piangeranno la mia vita la mia di quando ero in vita soprattutto no mia madre no boh soprattutto tu mi ricordi mi ricordi mi ricordi tra l'altro sempre su youtube ho trovato anche un video con i modelli invece per le fattezze dei personaggi e c'era anche la reaction della modella di Dina al trailer è bellissimo perché loro hanno dato solo le fattezze e non sanno un cazzo del gioco non hanno nessun altro coinvolgimento nel gioco è impressionante è anche simpatico sapere che gli attori sono diversi da chi ha dato le fattezze e poi vedere chi ha dato le fattezze rimani scioccato perché tu sai veramente questa cosa no non la sapevo tu sai che i personaggi non sono modellati tranne Yara e Lev e pochissimi altri tipo vabbè Gustavo Santoloalla che ha fatto la che ha fatto la colonna sonora e fa un cameo all'inizio del gioco a Jackson pochissimi altri sono stati ripresi in scala cioè sono stati ripresi sono stati ripresi le fattezze per il loro personaggio e se non ho capito male Lev e Yara gli attori di Lev e Yara sono stati ripresi come quello mio sono stati presi esatto come il tuo per ambito sono stati presi in scala 1-1 ma sono stati sono stati anche un po' mixate le fattezze per farli sembrare ancora più fratelli chi Lev e cosa Lev e Yara come si chiama io voglio fare una roba qua ma il filtro è certo che voglio il filtro no non solo usciranno da foto ma saltare anche il filmato e andiamo direttamente a Seattle il giorno 1 dove troveremo 4 monete con Abby ho letto anche un po' dei cat content e devo essere abbastanza sincero ah no questa me la devo giocare ma cosa è il flashback il sogno sulla morte del padre Debbie quindi oggi faremo questo la parte del passato questo sogno e la sua giornata 1 e andremo così avanti anche per i prossimi giorni sogno giornata anche se potremmo anche farci anche il prossimo sogno e poi se atto il giorno 2 farlo direttamente nella prossima live con il rispetto il rispettivo sogno e poi giorno 3 e poi l'ultimo quindi in teoria sono previsti altri 4 video e poi non so cosa fare che caldo ragazzi e ragazze amichi ma soprattutto amici della banana spinapple banana apple club amo loco tavolo 4 banana banana apple club loco no prima ci stava un ananas aspetta sentiamola questo capolavoro della musica aspetta però bavo ma che crisi no comunque quello che stavo a dire ai sbio manny mi sembra che l'attore sia proprio lui chi? l'attore che fa manny sia questo qua con cui sto giocando manny ah quello ma lui non c'è nella storia che sono in questo flashback no no manny c'è nella storia come non è quello che sputa il cadavere di Joel ah quella che fa pendejo esatto proprio lui che verrà ucciso in maniera bellissima secondo me da Tommy perché non te l'aspetto cioè perché te fa vedere proprio bellissima nel senso che te fa vedere proprio quanto è stupida insulta e rabida alla morte un po' come Jesse muore lui ah 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 god muore Jesse però l'ha fatto morire e cuci senza essere ricordato da nessuno forse perché non lo voleva nessuno beh magari c'ha un un cazzo di figlio che si chiama come lui Jordan non posso parlare con te Jordan sai perché Ellie non ha detto niente quando è morto Jesse ah dovevo passare non mi parlavi finché stavo lì anche Jordan mi sa che l'attore è lo stesso dicevo Lev e Yara gli hanno incrociato comunque un po' le fattezze per farli sembrare per farli sembrare effettivamente fratelli agli attori gli altri vedi gli attori cioè i modelli per il viso dei personaggi sapendo che l'attore che l'ha interpretato è diverso comunque un po' te colpisce perché poi vedi la modella di Abby uno magari i personaggi è stati disegnati no stati creati da zero e invece no hanno tutti i modelli veri come in effetti si vede dall'enorme cura ed efficacia della riproduzione cioè sarebbe stato plausibile possibile ma più difficile fallire a zero invece poi quando tu vedi la modella che ha fatto Abby sei lì cazzo Abby esiste nel mondo reale ma è uguale a Abby o uguale a Nadine quella è uguale no l'attrice non è uguale a nessuna delle due l'attrice non è uguale a nessuna due è la modella perché hanno dato le fattezze stai capendo quello che ho detto stanno ci stanno si 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 ho capito ho capito ma quella di Ellie invece la sapeva è anche l'attrice Ellie e Joel no Ellie e Joel mi sa che erano fatti a zero no no Ellie ce l'ha la cosa sua no se dicono tutti che sia stata modellata su Ellen Page ma non è vero anzi all'inizio assomigli un'attrice e all'inizio la prima versione di Ellie assomigliava veramente tantissimo la prima versione sull'uno si però poi è stata cambiata il risultato finale è cambiato ma Ellen Page era incazzata lo stesso perché secondo lei assomigliava ancora troppo ma sulla remastered addio no sul primo gioco edoardo è ok sulla remastered no sul primo gioco la prima versione quella per playstation 3 ah ok oh benvenuto quarto spettatore sì speriamo che non vedi che non te da The Last of Us parte 2 come categoria come c'è capitato il quarto io devo capire perché Twitch è così stronzo perché eh perché me perché me togli la categoria una volta che faccio partire la live non è Twitch il problema eh sì che è Twitch bella benne Apple Crew blocco nanas famo tavolo 4 hai sentito il quarto spettatore pure no il quarto spettatore non sappiamo manco chi è se c'è che fa è una persona dici che è una persona è un bot è un bot ah potassi push 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 te lo fa vedere adesso che ci sta a me me lo fa vedere ma quando parte quando parte parte con la categoria me ne dice a me no non ti dico i spettatori ti dico la categoria a me sì eh a me è molto bravo perché dice che che pane buono ma porco ma che bello ti ricordi fratta su NBA me lo ricordo sì infatti non vedo l'ora di ricominciare perché era bellissimo mi mancano quelle quelle serate a commentare le partite di NBA 2K io e te e poi a volte fratta ok messaggio nuova categoria della sua sparte 2 ok quando risorgeva ma inventiamo una nuova religione no il frattismo l'ananismo no beh forse no l'ananismo tipo quello da mamma tutta partita ecco la alaska cazzo si ma non è fargli quando fa bandana per il tuo crew loco loco no me lo dice con una velocità loco bandana per il tuo crew beh non ne va come eh che argento di ananas ananas tra l'altro io io ho sempre detto perché parla pugliese perché dice braciola e invece non è pugliese è una cosa argentina esatto è l'accento è l'accento non lo sapevi? è l'accento spagnolo ispanico che c'ha che c'ha le cose che c'ha la O chiusa c'ha tutte le vocali chiuse beh non lo sapevi? eh sì che lo sapevo ma non ci ho pensato perché la prima cosa che mi è venuta in mente perché non pensavo che diceva la parola italiana con l'accento argentino la braciola esatto la prima cosa che sono pensato è stata pugliese perché è proprio cioè la braciola sta bruciando capito e quindi la braciola perché lui ha detto sì lo fa parla in italiano ma te l'accendo su ma lo fa cioè come se fosse argentino eh bene non l'avevi capito eh sì canta in argentino anche se parla in anche se alcune parole esatto ma le sa le sa l'argentino credo certo è certo è argentino penso già bella doppia cittadinanza Kevin a 18 anni ha piato quella italiana anche se è nato qua ma fino a quanti anni è stato in argentino Kevin ma allora io so i nonni italiani perlomeno la famiglia del padre guarda tu la madonna adesso la facciamo la cattiveria che non ho fatto la prima volta no no che ho fatto gli ho tirato la pallina sui spalti ma ma non stavi addio a me adesso il cane resta lì a guardarla ad aspettarla perché sono una merda perché lo uccidi esatto orso non puoi ammazzarlo adesso il cane no a parte che si crea un paradosso temporale appunto ma è un ricordo non è che ho vendito nel tempo no non è un ricordo sta succedendo in questo momento è un po' come Assassin's Creed quando muori in realtà si è desincronizzato perché ovviamente non è successo che sei morto nella storia è già successo quella storia ma ti piace tanto Assassin's Creed oh questa me la stavo per perdere New Jersey mamma va bene ti piace tanto a te Assassin's Creed mi piaceva tanto oh bravo Valhalla secondo me sarà un flop nell'attico pazzesco no non credo Assassin's Creed non sarà mai un flop magari rispetto a quell'altro però c'hai capito dopo che è finita la saga di Desmond chi è Desmond? non era Ezio quello che mi piace a tutti si perché Ezio è il personaggio sviluppato meglio solo che dopo ovviamente si è fatti pure lì lì quelli che oh se la piglia con quelli a cui piace Ezio e tu sei tra quelli io so tra quelli a cui piace Ezio ma è normale che Ezio sia piaciuto tanto cazzo è stato il secondo personaggio introdotto guarda che quelli a cui non piace Ezio che parla di Ezio fag è tutti quelli giovani quelli nati quando usciva Assassin's Creed e che quindi non se l'ha vissuta con l'hype che ce l'assimo vissuto noi Assassin's Creed cioè il primo uscito e tu avevi 4 anni tipo capito 2008 si 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2010 sì perché 5 giochi perché 3 quando uscito Unjarted avevo 3 anni allora qua se non se non avevate mai preso monete abbiamo preso la prima il primo trofeo della parte debbie per aver trovato 5 monete in più qua dobbiamo fare 85 punti quando uscito Unjarted l'Italia era campione del mondo campione del mondo campione del mondo campione ma io il trofeo qua l'ho già preso nella blinder quindi cosa hai fatto quando mi dava vinto il mondiale eh sono andato in giro con la macchina a festeggiare ah c'hai la patente tu ah si si come no sono piato nel gennaio 2004 però non guidavo io me sa madonna sei stata una schede no in realtà sono stato vociato la prima teoria ah la me prendevi per il culo trofeo anche qui per aver battuto mani nella sfida il padre due volte come me ha la prima teoria si ma ho fatto 5 errori su 4 che erano permessi eh io ho fatto commette solo che se ne può commette 3 ne ho fatto due volte 4 faccia un po' lei le bestemmie due di questi errori riguardava una domanda su un carro trainato da cavalli che non doveva essere sul passato no non è vero non doveva perché è pienissimo di darci i gol quindi guarda è stato proprio una merda si è a me uguale mi ha dato tipo gli incroci col tipo non so quante macchine roba autobus cosi e quindi mi sono imballato due volte con quelli e in più anche due domande al travocchetto la prima volta e tra l'altro una di quelle due volte avrei fatto tre errori tranquillamente però quella che ci fa scuola qui da noi ci faceva assolutamente più argomento uno che è bravissimo io dopo quella volta non sono più andato a lezione mi sono ammazzato degli esercizi di pratica ma proprio tanti 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 e dopo quando so rifatto lo DS mi pare che sono fatto ma tu c'hai il motorino no due errori si c'avevo un motorino ma non c'avevo bisogno della patente dell'epoca ah è vero perché c'avevo il cinquantino ma mi sai che è tornato il king chi è è tornato è tornato tuo padre Bruce senior si che callo ragazzi tutto rosso ma cosa è meca non ti asciugamano tazza sedia tranne le cuffie dobbiamo le cuffie rosse ma ma diciamo di Assassin's Creed Ezio è stato il secondo personaggio a essere stato introdotto del passato secondo antenato di Desmond è durato tre giochi più un live action prequel di Assassin's Creed 2 un cartone animato sequel di Assassin's Creed Revelation è ovvio che chi l'ha giocato al momento dell'uscita se sia attito altro però è ovvio che chi l'ha giocato al momento dell'uscita se sia affezionato e appassionato Ezio cioè i giocatori di Assassin's Creed della vecchia guardia oltre al fatto che c'avevano una cazzo di storia nel presente con Desmond che ricalcava quella vera perché è finita il 21 dicembre del 2012 quindi c'era questa profezia del cazzo che te la riportavi nella vita vera è un mutato un attimo vabbè lo spero che cazzo e ma che cazzo e in seguimento in seguimento ah questo sì qua su il 4 soprattutto se gli altri non mi ricordo il 4 non mi ricordo proprio perché no ma il Drakman era regista anche lanciato il 4 ho visto il dietro le quinte infatti mi piace lavorare con gli stessi attori perché l'attrice di Nadine è quella di Abby e poi Troy Baker che è quello che fa Joel fa Tommy Drake il fratello di Nathan ahah sono d'accordo sono d'accordo questo che c'è questo è il mio il Cristo fortissimo Edoardo non ci posso credere non ci posso credere no va bene va bene giusto così il signore è la mia salvezza due volte tre ed ecco qua il Kentucky porco Dio Edoardo eh che ti avevo detto stiamo seguendo questa live certo io faccio due cose contemporaneamente tipo rompere il cazzo e mettere il ventilatore no è compreso quello oh i proiettili infugati anche ci abbiamo andiamo un po' uno ah qua cazzo qua dobbiamo prendere le parti e i supplementi amici abiche perché non abbiamo mica fullato le armi e i potenziamenti della nostra happy potenziamenti esatto però ci abbiamo c'è le armi ci abbiamo già tutte allora qui a sinistra dovremmo trovare della roba bad oh party 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 ok cazzo allora me devo riabituare il fatto che dobbiamo prendere parti e supplementi cazzo Non ero più abituato Ah, che stanchezza Non ho fatto un cazzo tutto il giorno, sono proprio stanco Ah, un barco Abbiamo detto che abbiamo tutte le armi Usiamole Ma, ah, ma me devo anche curare, cazzo E non si capisce comunque sto grigio chiaro Quando sto morendo Ma sta parte comunque non la giocherò troppo stealth Cioè Ah no Eh no, perché, cioè Eh certo che ho il riot Dovrebbero essere finiti Ok Allora, dove possiamo arrampicarci? Ah, le porte qua che posso aprire Anche se non Pedro Banda una spa al Pedro Loco Uh, cambia Banda una spa in Apple, Pedro Qua è quanto deve rompere il cazzo sto cane, guarda Il paro Pedro Il paro Pedro è una sega Ma? Oh, e ti tiri su Abby? Grande, vabbè Oh, guarda quanti supplementi Mi gusta Perché non mi ha dato le parti che mi aspettavo? Ci stanno tanti tutorial su YouTube Dei come butta giù il paradiso Se non ci stanno bisognerebbe inizi a farli Perché Eh ma non puoi monetizzare Che li fai a fare? Per insegnare la retta via la gente La buona novella Cazzo Gesù mica Gesù mica chiedeva soldi Ci sarebbero dovute essere anche delle parti Che però non trovo Ok Potenziamo qua Adesso appena possiamo potenziare Potenziamo Non Scusa ma Gesù chiedeva soldi? Per fare cosa? Allora Per predicare la barata del padre Questo non possiamo In realtà io credo di no Spero di no Ci viene detto di no Quindi Io predicherò la barata di mio nonno E anche di mio padre Dove siete? Bastardi Oh Sì di merda Uno scemo L1 Per schivare Oh ma tu non sei un mio amico Ti avevo scambiato per me Aveva la stessa pettinatura A me eh Dici A parte te Non l'ho visto Ok Bombe Proiettili incendiari No bombe Gradisco le bombe Cazzo di documenti ciò che non ho visto Ah la moneta del main Stadio main Ok Tu non l'hai mai visto Joker Il fratello di Ciccio Gamer Non che ci tenga particolarmente È un fenomeno È un fenomeno Una volta su Stava a giocare a pressa Fa il Bull opening Ad ora Dom Td Che è di colore Na Dom Td Ok Fa Chi è? Jordi Alba Poi cominciai a dire Sì Giordi Alba Perché dovrei ridere? Perché Ha sbagliato Ha confuso la tonalità La colorazione Anche se io credo Che non faccia differenza Tra un Td E Quell'altro Giordi Alba Nuova categoria Della stop pass Parte 2 Comunque Parti No parte Merda No parte No parte quelle che ho trovato Ok Secondo te no Delasto pass Il prossimo Delasto pass Se esce Si chiamerà Delasto pass Parte 3 Delasto pass Ma per forza Ma per forza Si chiamerà Delasto pass Parte 3 Per me no Perché parte 2 Potrebbe anche Stave Perché parte 2 Cioè non è il Cioè Il continuo È il continuo Del primo Capito? Secondo me Non sarà il continuo Del secondo Non lo so Lo scopriremo solo Il Dracman l'ha detto Già per questo Eccole qua altre parti Che cosa? Il Dracman l'aveva detto Già per questo Non puoi fare Un Delasto pass Senza I suoi personaggi Rip Joel Eh Rip Joel Però ci stanno Ellie ed Abby Magari Ellie Non sarà la protagonista Però Io spero Che non è Abby Questa Cosa Enorme Secondo me Ci sta che Chiudono il cerchio Con Abby Che è tornata Con le luci Con le luci Che cercano Di ripartire E magari Cercano Di riprendersi Abby Per Ellie Per fare la cura Nonostante L'unico chirurgo Che potesse Creare il vaccino Era il padre Di Abby In effetti Adesso Cioè basta Nel senso Non è che Nel frattempo Cioè o eri diventato Chirurgo Prima della pandemia O non è che lo diventi Dopo Perché cioè Non ci stanno più Le università L'unica altra speranza Poteva essere Un altro figlio No Mel Perché Mel È la sua discepola E Mel È morta E Mel È morta Insieme al suo Comunque Mel Non è che Aveva potuto Studia Troppo Ma come nei migliori Filmi americani Si scopre che Mel Non è morta È un cazzo In ogni film americano Gli ha soltanto Staccato La vita Allora Ha soltanto ucciso Non è morta Moneta Del Massachusetts Come su Avengers Infinity War Che fa Non spoilerà Avengers Non devo spoilerà Dico una battuta Che ha fatto Thor È spoiler Ti ricordi di me È Infinity War Che cazzo vuol dire Magari ci sarà gente Che non avrà visto Infinity War Quando abbiamo fatto Quando vedrà Ma non c'è gente Che guarda I tuoi video Non c'è gente Che guarda Magari dopo che Saremo morti Ci sarà gente Che guarderà I miei video Prima di Infinity War Che ne sai Sì Quando saremo morti C'è un totale Di 61 parti Cerchiamo di trovarle tutte Cioè Metti tra 50 anni Magari i miei video Saranno più famosi De quel De Infinity War Vabbè Te lo dico La battuta Vanno fa Che coglioni Che fai Vabbè Sto zitto Mamma mia Ma io vengo a casa tua Spoilerato Bene 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 Uh guarda qua Tante pare Uh coltelli Un pare Un pare Da una festa Un pare Ma perché stai a fa Federico Buffa Perché da quello Dall'imitazione De Federico Buffa Nel cosa Mi pare che era quella De Michael No Era quella De Ibrahimovic Ma appena segnato Era quella De Zlatan Ma appena segnato Ma l'acqua in vino E lui invece fa Che cazzo fa Eh la Vodka Gintonic Gintonic Successo incredibile 1-0 3-0 Zlatan Tutti a casa Ok Dall'in avanti Tutti i personaggi Più influenti Della storia Come un tipo Cominciano A Parlano E vengono Sconvitti Cazzi mazzi Là De Ibrahimovic Un giorno Il grande Silvio Berlusconi Dirà di lui Ma che dici Un padre Saliamo sopra Questo furgone Perché ci sono Due meravigliose pari Due meravigliose pari Due meravigliose Due meravigliose Due meravigliose Allora Proviamo Marco ma se te compri Una soundboard Quando ci avrò i sordi Per farlo Oppure la cassa Per le donazioni Tipo quella che c'è Cioè Matteo Headshot Quando riesco Matteo Hearthstone Vabbè quella Basta e te combi Una cassa Non c'è una cassa Dai marocchini Anche quella ai marocchini Eh Marco No Marco No Io ce l'ho rotta Ah no ma Ah ma tu intendi Cassettina Sì ce n'hai un paio Eh Penso Ce n'hai un paio Eh penso L'attaccolo cellulare Ah no L'attaccolo cellulare Dove c'ho i cosi Dove c'ho il button Instant button A partersi al pagamento No ma l'hai messo al pagamento Di bastardi Che bastardi Io ce l'ho Però non lo parlo Vabbè a parte che vai in giro Su internet Ti pare che non lo trovi Crackado Su Altoy Ci stai tutto Oh brava Abby Per un attimo Mi hai fatto temere Scrivi su Telegram Instant button Gratis Ma chi se ne frega Beh Non è che ho detto Che lo devi fare Ho detto Puoi fare anche così Sì Ma non è importante Da quando ho scoperto Telegram Mi ha saperto un mondo Non c'è di che Non è grazie a te Avevo scaricato Il giorno prima Due ore prima Tipo Che mi si rompeva il telefono A febbraio Non so Ma io già facevo Ma c'avevo già il canale Telegram Io Edoardo Cioè Quindi dovremmo Ma io non c'avevo Telegram Sai com'è Ma sapevi che esisteva Eh beh Certo che sapeva esisteva Non sapevo che Cioè Sai com'è Sai che me ne frega A me Del canale Telegram De M4P Della piattaforma Dove ho interessato Telegram is the way Scusate Io ho trovato Tutti questi supplementi Mannaggia Cioè Da quando c'ho Telegram Tipo due settimane Che c'ho Telegram Mi sono visto Due gare Tutte le gare Tutti il weekend Del modo GP Mi sono stato Vedendo Tutti Cioè Tutti le episodi De Dragon Ball Tutti eh De qualsiasi serie Magari se vi diamo Parla di cose illegali Edoardo Mi fa piacere Non è illegale Te li mandano Se li scaricano Te li mandano Non è illegale Illegalmente No No Tutto legale Immagino Non devi andare su CD Per guardare I cosi di Dragon Ball Se vuoi te li posso mandare Anche su Whatsapp Non mi interessa Non ti date link Non mi interessa Mentre invece La mazo GP E la serie A Quello Non è legale Per un cazzo Ma ehi Viva la pirateria Ah non è vero Comunque Mi ne soglio Signori Twitch Che non faccio Da te stesso Si Allora Ci dovrebbe essere Una Workbench Da qualche parte Ma porco Chi fermerà Zladan Nessuno Chi fermerà La musica Nessuno Si che cantava Chi fermerà La musica I puo Ovviamente Ma per che cazzo Mi selocca qua Qualcosa ci Winnie the puo Sai che si chiama A coce davvero Per winnie the puo Ma che cazzo Dici Giuro Allora Velocità di ricarica Non mi fido Di un 35enne Quello che No ma ne grazie Quando si studia Mirino telescopico No non ti rispondo No vabbè Mirino telescopico Mentre la servia Oh ma di balano Può fare tantissimo Per qua non insegnare Da quella distanza Sumeria calcio Perché Capacità Si assolutamente E ho preso calcio Soltanto perché Tu hai letto Zladan E mi ha punito Come ho preso Ha preso calcio Da Zladan Ibrahimovic Dio Zladan Un secondo prima Hai letto Zladan Lui ci sente Ops No Valentina Non mi puoi Scrive adesso Qua intanto lavoriamo Trasforma gli scarponi In calciatori Trasforma gli scarponi in calciatori Marco ma mi hai mutato Ma sei un bastardo infame allora Ma sei un bastardo infame allora Ma sei un bastardo infame allora Ah no non mi hai mutato Ah no non mi hai mutato Ah no non mi hai mutato Marco ma io non capisco se sei mai mutato se sei mutato se hai fatto o sei detto Se sei Gesù o no Non mi hai mutato Non mi hai mutato Il gioco Il gioco Dove ti è tutto io ? Si Il tronco è morto Il dono è mortato Che cosa ora ? Il tronco è morto La tronco è morto Il tronco è morto Il tronco è morto So, glad you hitched a ride with us. Right. Why do you think Fanny won't win? I am glad you killed Fanny. I'm glad you got in trouble now. Hey, why have you been avoiding me? I wasn't avoiding you. Come on, you've barely said anything to me since Jackson. I don't know, I guess I was shook by Jackson, too. You don't think Joel deserves money, huh? I think he deserves worse. I just wish I didn't take part in it. I get it. What kind of a person could do that, right? I'm not saying that. Let's see if there's a way to the hatch. All right. Okay. Ehi. Ma qualcuno può dire a Marco che è mutato e non si sente quello che dici? Vabbè. Fabgusti. So, what's your idea? Um, one sec. What are you doing? Getting us out of here? Okay, just go slow. One advantage of being pregnant. Low center of gravity. I'll take your word for it. Oh, you've made it. What, you're not even watching? What? Avevo ricevuto una telefonata, Edoardo, pensavo fosse tutto chiaro. Ah, eh... No, non era chiaro, perché non si capiva. E quindi non era chiaro. L'ho detto anche. Ah... Allora. Ah, guarda qua la furbizia degli amici di Naughty Dog. Chi cazzo ci aveva pensato qua? Che sciocco. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Che sciocco. Come ho fatto a non pensare che questa scala si sarebbe potuta utilizzare anche in un'altra maniera. E' bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Edoardo, sì, non l'avete ancora fatto lo YouPoop? YouDoPoop. È più bello YouPoop. Te sto migliorando esattamente come facevo ieri con... Eh, ma non è più bello, è più bello YouDoPoop. No, è più bello YouPoop, chiaramente. Ah, madondro. Energia. Pugnali extra. Ma se sempre hai chiamato YouDoPoop, perché adesso dovete venire qua e fare il fenomeno? Crea munizioni pistola da caccia. No, facciamo più... Ah no, questo l'ho so potenziato già. Ma come va meno lontano? Ok. A parte un guitto. Wow! Madonna, Abby, che f... Un gatto proprio. Figa. No, non è per niente. In realtà, c'è un viso bellissimo. E so gusti. No, no, me bodyblocki. Ok. Certo che so gusti, ovvio, è normale che so gusti. Non mi piacciono le ragazze virtuali. Ma ci sta l'attrice, vera? Ah no, questa... Oddio, a che cazzo... Come si usava questo da chi? È un po' di volanzi. È ancora cercando di fare qualcosa? Sì. Guardate, devo andare io un attimo per dieci minuti e un quarto. Rimango nel party per la minuta. Vedela. Ah, fermi tutti. Anche questa mi sa che non l'ho fatta... Oddio, non mi ricordo. Potrei averla fatta, in effetti, la volta scorsa. In blind. Spero proprio di sì, perché era proprio da Napo non farla. Ah, sì, perché c'era un manuale. Ci sarebbe stato un manuale che però ho fatto. Ardo, se muta, significa che ci fa sentire solo il suo... No, non mi sa mutare ancora. Allora. Ce la puoi fare. Attela rigioga. ok perché fratte il 17 6.020 mi scrive a che giochi alle ore 11 di sera forse perché non voleva sentire più il tuo cazzo di ventilatore di merda e perché e perché il 26 5.019 mi ha scritto fai schifo potrebbe essere per un'infinità di motivi tutti giusti e perché io gli ho risposto fammi una bippa perché lui mi ha risposto non sono barola con la F non lo so non ci sono le tue conversazioni poi ci sono io che bestemmi a varie divinità in tutti i luoghi in tutti i laghi poi c'è lui che è il 28.7 quindi dal 28 luglio dal 25 dal 29.5 fino al 28.7 del 2009 non mi ha più iscritto sulla playstation posso entrare nel party posso e non gli ho risposto ah poi durante le video lezioni quando zombavo ogni tanto ha scritto c'è la broffa adesso gli dico che stai giocando alla play ha detto c'è la broffa vieni non gli ho risposto ha scritto glielo dico e gli ho scritto stai zi no gli ho scritto non dirgli orco non dirgli niente poi mi ha scritto il 17 sai a che giorno edoardo allontana sto cazzo ventilatore per favore ma sta 8 metri da me guarda oh se te lo dico c'è sarà un motivo guarda che guardo non mi manda le foto cazzo ok sei delle 10 credo che poi dopo la gente guarda un minuto e trenta dei qualsiasi mio video e mette i pollici in giù subito perché perché purtroppo ti faccio ancora partecipare ai video oddio te prego finisce sta conversazione manco cristo bellissimo quel video bruce ci sei si mi invitate un tuo risposto qualcuno è online io scusami t'ha scritto manco cristo dai fratta vieni su fortnite intanto metto a scaricare le warzone io ci sono accompagnami a portare Pedro sto alla tre c'è Martina stiamo a guardare youtube la smetti di leggere i messaggi privati di un'altra persona tra l'altro vogliamo i video se tu leggessi tu hai giocate si ci siete Marco ah il numero fortunato si trova qui ovviamente giocate ci siete raga ci sono solo mezz'ora poi devono guardo basta basta ti va di giocare con me stai frantumando il cazzo scritto please no no ok stai zitto mo te caccio dal padre no questa però devi farmi la lecce è l'ultima te lo giuro cago e arrivo ovviamente con le power skins con le cosa power skins che sarebbe le power skins le skin del potere o le skin di power perché mi è scritto barusu wabakada eh leggilo bene per favore burusu wabakada significa brusso e stupido in giapponese furata mobakada anche fratta è stupido questo vuol dire letteralmente furata vuol dire anche furata è fratta è mo che vuol dire anche ma perché ci da del orca ma ho preso l'artefatto vero ci sta insultando no sì no c'è un artefatto c'è un artefatto che non ho preso oh no ah no sì sì poi Marco manda le foto di me che sono là in go2 account sullo stesso gioco esatto come è stato possibile quella cosa non lo chiedere a me poi Marco manda il gioco di Jojo mentre dice oh mio dio vecchio Jojo ci sono da adesso fino alle 16 frara no questo me lo tengo per i cosi bello occhio ho scritto giochi ci sono da adesso fino alle 4 andrea frara praticamente 4 ore di mattina no comunque hanno rimesso star wars perché il 4 maggio my the fort è la giornata mondiale my the fort be with you raga come siamo ronaldo ma chi so cr7 ascoli world tour ma quando facciamo la seconda stagione eh quando te pare non me pare eh allora niente eh ma adesso dobbiamo giocare senza share play perché perché io ce l'ho best 2020 possiamo giocare senza share play allora eh che ho detto io possiamo no dobbiamo merda marco oh chi è quell'eroe che è quell'eroe che ha sparato in testa con così tanta precisione ok ah ti saluto a jaggy marco sto a guardare la sua live cazzata e invece c'è altra gente perché stai guardando la sua live e non la mia perché lui è jaggy tu chi sei sei solo un piccolo marco for press sei solo un marco for press anzi basta un coglione un marco for coca cola tre messaggi chi è che è un'ora che giochiamo qual è ma è paolo quando ci giochiamo ancora non l'hai finito zio snake si voglia se l'ho finito sto a fare una partita più per il per il platino non c'è scritto c'è scritto platiniamolo bentornato zio snake ma c'è ancora gente qui ma questo è many ce la farò a trovare avevo sentito il rumore tipo di qualcuno si infatti non me lo so comunque più troppo stealth almeno che non debba preservare le le munizioni se no c'è gli do proprio a massacro perché ci ha visto che sei qui ma si tiene in due davo già anche il caim per stremmare non hai finito pio di amare quanti cazzo sono sono una squadra tantissimi metti fuori la testolina oh bravo marco mette c'è di più in effetti stupido quando l'hai pagato gioio 10 euro mi pare madonna arrivare tutti grazie amici 7 amici fortissimi molto meglio di di te edoardo ad esempio brus e frattastik frattastik non lo considero nemmeno un essere umano eh non è dj fratta dj fratta ok eh lo sto per dir dj fratta perché è meglio di me e di frattastik si che 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 perché si sente meglio si sente meglio in live e poi gioca a fortnite e non a rainbow six invece fratta stick dico andrea contro edoardo eh qua è una bella lotta a chi fa più schifo grazie marco me ne vado ho reggito ciao che che ok me ne vado in grande stile insultando te no non è vero in quanto uomo molto colorito no va troppo lontano cazzo no no questa voce non va bene approccio sbagliadissimo non va bene questa voce non va bene approccio sbagliato ma chi sei qui approccio sbagliato a me sto approcciato male l'incontro tentavo devo far meglio una cosa tipo questa voglio fare ok presto presto prima che finisce fa a me pia le munizioni si si questo c'hai ragione però io vorrei anche pia a me un po' di munizioni perdonami che ne ho sprecate non so che c'è ragione non so che c'è ragione non parlavo con te parlavo con quella era giovine risorse 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 oh pretty baby voilà uh ti sei frito merda tre artefatti un artefatto tre monete e un tavolo da lavoro troveremo nel prossimo capitolo e che palle non è un video purtroppo è lunga ancora ancora mi sa che è ancora lunga hai detto è lunga ancora no è lunga ancora una mezz'oretta ce ne ho ancora tutta una mezz'oretta sto asciugamano penso sia più vecchio di me perché me lo ricordo da quando ho memoria della ls cioè attrezzatura per tennisti questo deve essere proprio da tennista degli anni 80 almeno ma cosa la ls come marca si ok lo so che è la ls allora ma che c'entra perché ho l'asciugamano con cui mi sto asciugando cosa che mi fa intuire che tu non stia guardando la live no qua ok eccola qui California here we come merda quante monete mi sono perso io durante la partita durante la blind ok oh pretty baby manny tu non fai altro che aspettare insomma è quella voce da bimbo più ritardato adesso no si si adesso lo troviamo Isaac ma prima troviamo la moneta del New Mexico ancora qui oddio bene 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 ragazzi niente gioca da Juve però su fortnite c'è rissa squadre che gusta a due punti di grande non ho capito Marco Fornavo non ho capito perdono mi ripeti ragazzi niente virgola gioca la Juve punto però su fortnite c'è rissa squadre che gusta due punti di grande oh ragazzi tra le altre cose vi ho inviato a una vi ho invitato a una community di Petro Gaming ma quanto è vecchio questi messaggi 411 2018 eh carcatraia quasi due anni ok abbiamo quasi potenziato tutte le armi di Abby e quindi stiamo prendendo un altro troffero io ragazzi quando volevamo spaccarci insieme con sto gioco potevo mettere d'accordo che imbarazzo che marco for manca solo il fuoco raffica grande manca solo il fucile se mi domani ah perciò il gruppo che avevamo fatto con Fischio Mattu ah Cuciniamo e Philips e Cuciniamo quel ladro Cuciniamo mi ha venuto la l'anima no la dove ha venuto per il mojito i biglietti di che? per il mojito continuo a non capire scrivilo in chat ma i biglietti per il mojito il mojito ah ho i biglietti i biglietti le prevendite per andare a mojito ah quale è il mio cucino Emanuele o Matteo? Mattu Fischio 2001 Mattu che ha quello riccio si ok ah fa pure lo PR adesso che cazzo di PR eh che venne i biglietti cioè non era lui era lui cioè due amici sua era in realtà però c'era anche lui Manny dove sei? Manny ecco ti ma vabbè queste le abbiamo già viste tutte quante quando abbiamo fatto la blind adesso non ci interessa adesso ci interessa che cosa è comunque una run completista ok via 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 perché il 31 maggio ho scritto a tale XRRX mannaggia la buttana 17-7 che bucio del culo oddio ma ti ricordi quando hai trovato quello che ti ha ammazzato che hai trovato su YouTube quello che ti ha ammazzato su Fortnite ti sei andato a scrivere più di una volta beh a più di una volta l'hai fatto che era in live sì sì che era tipo uno con 50 mila iscritti tipo ho capito quale è chiedo ho cominciato a dire che tipo c'era pochi c'era tipo 20-30-40 persone che lo guardavo che ho cominciato a dire che cazzo è che new 6 sono un figlio di puttana che new 6 ho ucciso Bruce Junior che new 6 questo è proprio quello che fa me lo saltare abbiamo finito Marco? no voglio ma chi è essendo quel sacco? Danny il lupo che è stato ucciso da Owen ah il lupo è una persona oh finalmente oh merda è Danny Danny mozza stiamo a prendere un'altra moneta oh merda è Marco corriamo via è l'agge Marco di me guarda questo ventilatore hai finito? posso andare a fare quella cosa lì intanto io che devo fare quale cosa? devo andare a fare una cosa a qualcosa a mia in quarto d'ora massimo non ci voglio no dai abbiamo quasi finito puoi aspettare ok devo non frega più un cazzo la moneta l'ho presa attenzione poi NBA tattico hallway on the right cioè questa NBA tattico no non ho perduto questo f*** sempre ho perduto questo merda attenzione perché qua dobbiamo Marco vittoria meno naro chiede consigli su come ammazzare il tempo come intendi rispondere ammazzando te ma stanno dibattito ma non la conosco hai detto che vuoi ucciderla no ammazzando te te edoardo intende tutti i signori di twitch i social completamente ammazzando te io per rispondere edoardo no avrei detto ammazzando ti invece ho detto ammazzando te cioè edoardo io devo trovare scusate no non la racconti questa fantomatica lettera Marco non la racconti giusta proprio ah eccolo qua no non la racconti sono pronto per diventare un comico marco non ci sono collezionabili ti interessa hai finito cosa sono pronto a fare cosa per diventare un comicon che sciocco questa è la mia miglior battuta flashback allora abbiamo finito facciamo questo flashback e poi andiamo no sono pronto per diventare un comico non un flashback benissimo una fiera del fumetto americana quindi un comico un comicon hai detto allora sono le 17 eduardo tu puoi andare a fare quella cosa che vuoi fare poi se vuoi possiamo streamare da te si poi c'è il compleanno di benedetta domani porco due stasettimana i compleanni è tipo da tutta la settimana che sto a casa a mangiare la sera allora quando era vai tutti filmati questo ci mettiamo un attimo ieri ho mangiato al mare avanti ieri ho avuto un compleanno il giorno prima ho avuto una cena a casa di un amico mio stasera c'è un compleanno e domani sera c'è un compleanno let's go allora amici ma soprattutto amiche di mac world press underscore e della bandana nas poi n'appo il club devi farlo io a kevin se mi faccio la soundboard sicuro ci metto kevin c'è quanto costerà quella più piccoli la più piccolina quanti ce n'avrà 9 tipo facciamo subito volta allora dell'elgad o mi pare che non costa non sa non costa topis sicuro ma accende tutto con l'albo delle luci aspetta ma che lo vedo però non si chiama soundboard si chiama tipo stream deck mangio amazon penso che la trovi è sì certo che la trovo no più che altro perché finché non c'è dovevo fa un passo alla volta il primo passo è un computer il primo passo è un portatile ma scusa ma perché ti fai portatile cristo dio perché perché non mi serve solo per stream ma quando c'è di internet spende per un portatile fammi capì boh ma uno al passo coi tempi e forse anche con 800 euro io lo faccio e se è un minchione allora aspetta poi chiudo anche la live poi diritto dimmelo e sentiamo cosa ne pensano i nostri amici comunque non vorrei di niente guarda un po' la leaderboard leaderboard chi è? e sarebbe duro e sarebbe duro e non me lo so guardare il canale adesso ho addirittura dato 4000 punti dei stacco a paolo e tu ci sei sempre perché sei il mio best friend forever No, hai detto che non mi hai dovuto essere una persona. Allora, prima posizione Bruce Jr. Secondo... Oh, figa, Maria, è figata il low così, Marco. Quale? Dobbiamo mettere un po' d'oro sul fottuto coso, sul fottuto... Ci sta benissimo. Ha scritto fallo a oro Bruce Jr. se riesci. Ma di cosa stai parlando? Sul logo. Il tuo logo? Eh. Comunque mi devi far assolutamente il banner. Sì, a mo' te lo rifaccio. Mettelo off a te. Eh, fammi finire l'aria. Eh, intanto io devo andare via. Un quarto d'ora massimo e tu... Dimmi come lo vuoi, quello is offline. No, se vuoi fare pure quello, ok. Tanto devi mettere lì tu, non li posso, metto io. Ma posso streammare a telefono? Sì, ma quello che riprende il telefono. Eh, lo so. Ci sto streammato le serate, è comica. Figata. Mi piace questa cosa, mi piace. Ma poi posso anche vedere la chat. Penso proprio di sì. Grande cosa. Oh, pretty Pedro. Mi piace, mi piace. Chiui sta live del cazzo, Marco? Finiamo questo flashback. Stavo dicendo agli amici, ma soprattutto amici di Marco Wolf Press, una nana pineapple crew, logo da 1-4. Che se no, ci sono artefatti in questo flashback, però per completezza noi lo facciamo. Perché comunque, metti che qualcuno lo sta guardando, cioè lo sta giocando la prima partita. Luttando 3 chili, no? Madonna. E qua la si è magra. Non è ancora diventata la The Rock. Per i capelli, però. Qui si può ispezionare tantissimo, ma noi l'abbiamo fatto nella Blind Drum. Se siete blind, ve la fate da soli. Al piano di sotto si può ispezionare tanto, tanto, tanto. Ma noi dobbiamo andare avanti, quindi... Ce ne andiamo qua. Io te la sto passando, anche se non ci posso aiutare. C'è questa nota che, però, chiaramente, non è un artefatto. Non lo cancellerò mai. Perché manda avanti la storia, quindi è comunque obbligatorio. Credibile come sia, no. abituati ai cadaveri, anche in avanzato stato di composizione come quello. Ci siamo quasi. Edoardo? 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 Ah, non è finito il flashback? No. Se stessi guardando la live... Ah, ma stai accoppando la live. Edoardo? Brutto idiota. Lo sai che saluto sempre i nostri amici, ma soprattutto amici? Edoardo? 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 Che ne all'infinito facendo ascoltato una volta quella, la canzone quella. E lo farò. Merda, nel prossimo capitolo... Cioè nel giorno 2 ci stanno... Cioè solo nel prossimo capitolo del giorno 2... Ma come? No, è ancora il giorno 1! È vero. Il prossimo capitolo è ancora il giorno 1, ma noi ci fermiamo qua lo stesso, ragazzi. E ragazzi. Bravo Marco Forfermati. Marco Forfermo, Marco For Giacomo Montagnini. Come Giacomo? Come si chiama Giacomo? Giorgio. Giorgio. Cazzo ridi, si pronuncia Giorgio. No, non ho riso per quello che non avevo mai capito, l'avevi detto Giorgio. Giorgio. Fammi parire. Ok, amici ma soprattutto amiche. Di Marco For Press, Bruce Jr., Rundescore e... Ah, aspetta. ...bandare alla Pineapple Crew. Come aspetta, li sto solitando. No, bandare alla Pineapple Crew, vamo, loco, tavolo 4. E guarda, non è ancora finita la live. Se te fossi degnato di guardarla un pochino oggi. Ma l'ho guardata la minchia, ma guarda che c'ho il tablet col telefono tutti e due a guardare. E' molto impegnativo il prossimo capitolo, quindi... Ma no, guarda la minchia, ma guarda che c'ho il tablet col telefono. Eh, niente, mi sa che... E basta. Mi sa che quindi avremo, oltre a questo, altri quattro video. No. Finiamo qui. Ciao a tutti e tutti. Edoardo saluta. Ciao a tutti e tutti. Edoardo saluta. Edoardo saluta.